Il presidente della regione Luciano D'Alfonso preannuncia novità sulla giunta. Nel corso della conferenza stampa di questa mattina a Pescara per tracciare il bilancio dei 100 giorni di attività ha affermato che la squadra di governo non rimarrà ghiacciatamente uguale a se stessa, ha detto, rivedremo le deleghe, preciseremo qualità e quantità in capo ad alcune figure della giunta. Questo per dire che ci sarà il giusto riconoscimento per l'avvocato Andrea Gerosolimo, capogruppo di Abruzzo Civico, ha aggiunto il governatore. Gerosolimo diventerà dunque assessore? Un incarico nell'esecutivo era stato ipotizzato se Lolli fosse andato al Parlamento al posto di Legnini. Visto che Lolli rimane in regione, come si concretizzerà? D'Alfonso non ha svelato eventuali cambi. L'incarico assessorile a Gerosolimo, che sembrava sicuro in estate, diventerà ora una realtà? Le dichiarazioni del governatore di questa mattina sono state chiare, come dire a buon intenditor poche parole. Ma prima dei proclami è necessario questa volta attendere la parola fine. Nel frattempo Andrea Gerosolimo dovrà occuparsi di organizzare all'abbazia celestiniana di Sulmona la Leopolda d'Abruzzo, cioè due giornate di confronto e di combattimento tematico con pensatori ed intellettuali. Due giorni, ha detto D'Alfonso, per confrontarci e darci voti. Chiameremo a raccolta le intelligenze e i pensatori italiani per confrontarci sul futuro di questa regione. Accanto a me dovranno esserci tutti gli assessori e i vertici amministrativi della regione Abruzzo, per parlare di programmi e prospettive, ma soprattutto per dare misurabilità a quanto fatto finora. L'abbazia celestiniana, concluso, sarà dunque la nostra sede di confronto e di combattimento tematico. In merito al bilancio dei primi 100 giorni, il presidente D'Alfonso ha affermato. In questi 100 giorni siamo stati innovatori, esigenti, ambiziosi, avendo in mente precisamente le priorità di questa regione. Insomma, noi abbiamo in mente di fare in modo che si passi da una regione col punto interrogativo ad una regione funzione, funzione dello sviluppo e della crescita. E poi stiamo lavorando rigorosamente per completare il risanamento della sanità, il riordino dei conti e l'ottenimento di livelli ottimali di assistenza.